Una 36enne di nazionalità nigeriana è stata trovata in possesso di 700 grammi di eroina e quindi arrestata presso l'aeroporto di Capodichino a Napoli. A scoprire la droga è stata la Guardia di Finanza insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L'arrestata, residente nella provincia di Caserta, era stata sottoposta ad un controllo nella sala partense mentre era in attesa di imbarcarsi su un volo diretto ad Alghero. I riscontri sui bagagli e sulla persona hanno consentito di scoprire 62 ovuli contenenti eroina, ognuno dal peso di circa 11-12 grammi, che la donna teneva nascosti all'interno di indumenti intimi. Tagliata e messa sul mercato, la droga avrebbe potuto fruttare oltre 100.000 euro. Per la 36enne si sono aperte le porte del carcere femminile di Pozzuoli, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dovrà rispondere ora di traffico di sostanze stupefacenti. Grazie. Grazie.